Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzio. Oggi siamo il 15 febbraio, ore 8 e mezza locali e vi porto alla cronaca un fatto che già avrete sicuramente ben visto con i vostri occhi nelle televisioni, nei giornali e l'ha visto anche tutto il mondo logicamente. Parliamo proprio di questo personaggio che è già stato il mio primo video che ho lanciato su questo canale in rete e spero che molti di voi l'avrete visto e notato. E già denunciavo questa persona che per i soldi faceva tutto pur di potersi portare avanti e farsi strada facendo una vita con una bella villa, una bella piscina, una bella donna, era una bella donna logicamente e con un bel conto in banca logicamente. Allenandoci in un bel paese che era il paese che fino a 10-15 anni fa c'era un regime d'apartheid vi parlo proprio del Sudafrica e lui se ne stava bene lì come bianco e quindi appartenente alla classe privilegiata. E logicamente vi porto a questo personaggio che oggi cosa si dice? Si dice che ha ucciso la propria compagna, una bellissima compagna e lui si difende, come è normale che faccia, si difende dicendo che naturalmente l'era scambiato per un lato. Però già danno le notizie di tutto il mondo che si sentivano le urla prima degli spari da parte dei vicini che poi ci sono stati notati già altri litigi fra loro due e che logicamente quindi già oggi al tribunale non reggeva la situazione e sembra che quindi si sia anche autoaccusato e poi dal dichiarare che era un ladro sapeva benissimo invece, dicendolo avanti al giudice, che invece sapeva che era la moglie insomma l'ha uccisa per incompatibilità di coppia insomma, come succede in tante cose. Oscar Pistorius, questa incompatibilità di coppia ragazzi mi viene qui da mostrare la propria rabbia per una cosa scandalosa, ve la dico ragazzi a distanza di quello che mi ha lanciato qui su YouTube che Pistorius per i soldi si è venduto pure la causa dei paraplegici, sì, lui per i guattrini ha fatto sì che doveva essere il paladino dello sport e che anche chi non aveva le gambe poteva garaggiare, ma lui questa cosa qui dell'essere l'uomo immagine dei paraplegici l'ha usata solo per fare un proprio reddito personale, ok? E il fair play che veniva riconosciuto da parte delle varie enti che organizzavano il mondo dello sport e gli eventi, lo ha fatto soltanto perché la Nike foraggiava questi enti io questo vi denuncio ragazzi, e anche oggi questa donna chiedeva soldi e benessere per se stessa ma lui come in tutte le cose le usa come un oggetto e poi le butta via questa persona non sapeva come buttarla e in un attimo di rabbia con altrimenti una persona che è cinica e solo inconcentrata su se stesso e sul potere dei soldi che vanna via la testa alla gente l'ha liquidata pensando che vabbè, tante Oscar Pistorius c'è la credibilità grazie all'immagine che si è creata no, non gli ha retto la cosa perché logicamente no, fortunatamente ancora c'è la possibilità che qualcuno la dica la sua anche io quando non lavoro prendo l'opinione di Luzio dicendo e denunciando che ha sentito i vicini che urlavano quindi non ha potuto più difendere questa cosa ok, sei uno schifoso Oscar Pistorius mi fai schifo persone come te voglio dire, non dovrebbero esistere nella terra e io come un persona che magari potrei essere in una carrozzella ti sputerei una faccia per quello che hai portato nel mondo dello sport con l'immagine di una persona senza gambe ok, perché hai fatto soltanto l'interesse personale non hai regalato un centesimo alle associazioni degli importatori di handicap o quello che hai regalato è regalato un surplus per crearti cento volte di più un reddito personale ok, c'era la tua bella villa con la piscina ti allenavi tanto per far un po' arricchire la crona che facevi lo sportivo ma era solo perché dovevi portare avanti la tua campagna con la Nike ma ti è andata male perché adesso lo spot non si gira più la Nike non lo manda più in rete la tua immagine di persona che veste panni della Nike ed è finito il tuo contratto ti chiederanno anche risarcimento d'anni come giusto che sia e ti voglio vedere povero e disgraziato che bussa alla Caritas come qualsiasi persona così forse magari prendi un po' più di coscienza con te stesso di quello che vuol dire avere il senso pratico della vita e non essere soltanto in balia dei soldi come tanti ok, che ti ha dato la testa uno sportivo che ti insegna è Roberto Baggio che lui è un uomo della FAO gli ha dato anche il premio Nobel come persona dello sport e lui ha mandato lo sport in maniera tranquilla soppiatto non vorremmo caccare per forza l'uomo che doveva essere sempre al settimo cielo no, lui ha mandato il calcio e ha preferito stare nella FAO dato che il calcio non lo può cambiare con le sue modalità di poter intraprendere lo sport come una cosa che può essere una passione non un far quattrini, un far cassa come te mi fai schifo Scarpistorius e quindi dico alla leader birmana che si è fatta l'entrata di calcio e che il premio Nobel glielo doveva dare in mano Roberto Baggio una birmana ha chiesto a Roberto Baggio che lo portava a te chi ti viene a chiedere? a te ti vengono a sputare meglio che ti ricludi in qualche posto non ti fai notare perché te ci avrai milioni di sputi domani e farai schifo e quella stampa che ti ha tanto sannato dicendo che è un bellissimo uomo un grande paladino per i paraplegici ora ti faranno sì che ti oscurano ti dici sta bene bastardo hai capito? quello questa è la fine che devi fare fai veramente schifo siamo sempre a Senigallia salve ragazzi anche io quando non lavoro guardo opinioni di Luzio grazie